I pazienti a rischio di gravi reazioni allergiche fino alla prossima estate potrebbero riscontrare difficoltà a reperire gli autoiniettori di adrenalina usati per intervenire tempestivamente in caso di shock anafilattico. Alcuni di questi prodotti salvavita infatti risultano carenti sul territorio nazionale. Questo l'allarme è lanciato dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica e dall'Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri. La carenza riguarda in particolare il farmaco iniettabile per via intramuscolare e in autonomia ai primi segni di shock anafilattico, soprattutto nella formulazione di 500 mg. Già dallo scorso luglio l'Agenzia Italiana del Farmaco aveva segnalato la carenza, destinata a protrarsi fino all'inizio della prossima estate e aveva rilasciato l'autorizzazione all'importazione dall'estero. Ora le società scientifiche prevedono che il prodotto sarà quasi introvabile già alla fine di settembre. Per questo hanno creato una task force costituita dai presidenti di SIAC e AITO e quattro allergologi con l'obiettivo di indirizzare medici e pazienti nella scelta di trattamenti sostitutivi. Le numerose segnalazioni che arrivano dai pazienti rendono sempre più evidente come si stia aggravando l'indisponibilità di questi farmaci salvavita che risultano sempre più difficili da reperire. Ci troviamo in una situazione di emergenza che va monitorata e gestita perché non diventi più allarmante, affermano in una nota i coordinatori della task force. Gli autoiniettori di adrenalina sono infatti indispensabili contro lo shock anafilattico, una reazione allergica generalizzata che si manifesta all'improvviso e che può portare a morte se non prontamente trattata. In questi casi, concludono, l'adrenalina rappresenta un farmaco salvavita e coloro che sono a rischio di shock anafilattico devono sempre tenerlo con sé e non esitare a utilizzarlo se compaiono i primi sintomi.